Bene amici, sembrava funzionare tutto in effetti troppo bene per il duo IMS post-italiane e infatti è successo, sta succedendo un patatrack, ma intanto oggi in pagamento correttamente assegno unico figli con data 17 e poi venerdì arriverà quello datato 19. Ok, cedolino della pensione di maggio in anteprima per gli invalidi parziali e totali dopo l'importo uscito già qualche giorno fa ecco che viene pubblicata anche la data sempre sul portale disabilità 2 maggio. Ovviamente poi per banco post il discorso, lo sapete, è differente. Prime domande di bonus nido accolte, sono ancora pochissime ma comunque vuol dire che a livello nazionale la situazione sempre indecorosa si sta sbloccando. Arretrati di assegno unico figli sulla vecchia carta RDC che sono arrivati ieri e sono anche stati ricaricati come flussi sempre ieri. Reddito universale di base europeo, ieri c'è stato il convegno al Parlamento europeo appunto, utilità poca ma qualche spunto interessante è arrivato e speriamo che questo possa portare il Parlamento EU a valutare, approfondire la questione in maniera seria. Io sono Mr. Lul, iscrivetevi se ci seguite, trovate utili e interessanti i nostri aggiornamenti quotidiani e questa invece è IMSS e soprattutto questa è poste italiane. Assegno di inclusione, ricarica anticipata al 15 aprile per arretrati e nuove domande, vero, vedete la disposizione, ma in realtà i pagamenti sono arrivati solo per chi attendeva arretrati. Infatti i nuovi percettori hanno ritirato in posta una scheda non solo ancora vuota, ad oggi, ma hanno ricevuto ricariche a zero, cioè sono arrivati, li vedete, gli SMS di disposizione a credito con saldo a zero. Sarebbe da ridere se non fosse l'ennesimo smacco e torto alle categorie più fragili. Ovviamente la situazione verrà sistemata ma i tempi non sono noti, quindi si tratta di attendere. Mi chiedo come sia possibile che questa tipologia di problematica avvenga e sia avvenuta soltanto con RDC prima e SFL e ADI ora. Sarà un caso ma a pensar male, diceva mia nonna. Non si sbaglia mai, alla prossima un abbraccio da Mr. Lulla.